Fabrizio Vitale, Gazzetta dello Sport, volevo partire dal dato positivo di questa settimana, il recupero dei vari infortunati, alla fine rimane fuori soltanto ceccaroni, quindi questo può essere un dato significativo in vista della trasferta di Parma, ti chiedo innanzitutto che tipo di apporto possono dare questi giocatori che sono rientrati da questo lungo periodo e chi più chi meno di stop e poi ti chiedo anche se sul piano fisico pensi che la tua squadra possa reggere l'urto con quello che si è visto soprattutto in Coppa Italia da parte del Parma che sul piano della corsa almeno così sembra averne di più di voi o almeno rispetto a quello che avete fatto vedere ultimamente. Dicevo che abbiamo recuperato anche Gullibali che dal punto di vista condizionale a parte la fibra che ha avuto e l'abbiamo perso per un paio di giorni è quello che sta meglio, è normale che su Vasic insigne e rientrano da un periodo Vasic più lungo rispetto a Roberto dunque sicuramente sono giocatori che devono lavorare per recuperare una condizione importante però è fondamentale avere i recuperati, quel lavoro, gli allenamenti, i tagli di partita l'idea di riportarli in condizione, abbiamo quattro partite importantissime da qui alla fine del girone d'andata e aver recuperato i giocatori in questo momento è molto importante rispetto anche a Ciccaroni che fondamentalmente è un giocatore che speriamo di recuperare sicuramente anche per le prossime o tre o due partite vedremo. E sul piano della corsa del Parma? Il Parma a prescindere da questa attitudine è una squadra costruita, due o tre giocatori per ruolo molto importanti, hanno una turnazione di livello, lo si è visto anche in Coppa Italia dove sono rimasti fuori giocatori che nella partita a Spezia erano partiti titolare di conseguenza hanno una rosa ampia, una rosa importante con tutte le caratteristiche giuste sia dal puntista atletico, tecnico, tattico, è una squadra anche in fiducia e l'abbiamo vista anche nella partita di Coppa Italia dove vinceva 2-0 solo nel calcio di gol e la Ferentina è riuscita a passare il turno con piena consapevolezza di affrontare un avversario costruito per fare un campionato di vertice e sta rispettando quello che tutti pensavamo potesse fare all'inizio dell'anno. L'ultima per me, l'anno scorso hai battuto il Parma con una tattica leggermente diversa da quella che è solita delle tue squadre, cioè gli hai concesso campo e poi hai provato a pungere con le ripartenze, può essere una chiave di lettura per domani? Io penso che da questo punto di vista il paradosso è che il Parma quest'anno ha un atteggiamento difensivo con un blocco più compatto, più basso e questa fase di attesa gli permette poi di avere un campo dove hanno la qualità tecnica e la forza per ripartire e hanno fatto tanti gol in transizione positiva e dunque da questo punto di vista ci vorrà grande attenzione dal puntista non possesso con un blocco che sia forte, compatto, che difenda bene insieme dove non possiamo permetterci un giocatore che non partecipi alla fase di non possesso capire noi quando potremmo recuperare la palla e avere degli spazi per andare a contrattaccare velocemente e altrettanto quando il campo si allungherà e la capacità di controllare il gioco per non permettere che su un campo aperto o su una riconquista basta veramente un passaggio o uno contro uno laterale e possono diventare molto pericolose. Buongiorno Eugenio, Paolo Vannini e Corrierello Sport. Sappiamo tutti che non è solo un modulo che vince le partite o che le fa, però il Palermo ha lavorato da quest'estate su un tipo di idea anche nella costruzione della squadra, era un 4-3-3 che doveva essere sviluppato in varie maniere. Da parecchie partite, in particolare mi pare da quella con l'ecco che tu stesso hai identificato come un momento di rottura in cui si è rotto qualche cosa, tu stai cercando altre soluzioni o comunque hai provato altre soluzioni da Vasic esterno fino al 3-4-2-1, chiamiamolo come vuoi, di venerdì scorso. Ti chiedo perché non si sviluppa il tipo di lavoro sul cui si è lavorato già da quest'estate e cosa stai cercando esattamente? E poi te ne faccio un'altra se possibile. Guarda, su questo Paolo vorrei vedere con te le partite e la rosa che avevo a disposizione per farti capire le riflessioni che ho fatto in quel momento lì, di conseguenza sono stato reattivo a dei giocatori, in particolare in un reparto, quello offensivo, che anche determina un po' quello che è lo sviluppo della squadra e di conseguenza in quelle partite dove ho fatto scelte diverse, a parte con l'ecco dove fondamentalmente la posizione della punta di sinistra era un pochino più centrale rispetto al solito, ma fondamentalmente come vi ho detto è sempre un concetto legato all'occupazione degli spazi, compresa l'ultima partita in merito alle assenze che avevo, a tutto quello che in quel momento mi dava una logica rispetto alla partita che volevo fare, ho scelto da punto di vista tattico i giocatori che ritenevo più coerenti con l'idea che avevo sviluppato durante la settimana. Precedentemente la linea è sempre stata quella e sono state le assenze che mi hanno fatto determinare un'aria di qualche piccolo adattamento rispetto ai giocatori che avevo a disposizione. In settimana è venuto a Palermo Riccardo Brigon che pur non avendo un ruolo ufficiale nel Palermo è sicuramente molto importante avendo un ruolo di supervisione di tutte le squadre del Citigroup, ci puoi dire se hai avuto un confronto, se ti senti stimolato e nello stesso tempo confortato dalla sua presenza in questi giorni a Palermo? Riccardo viene spesso, è un consulente del Citigroup, è venuto spesso a Palermo, di consulenza non è venuto queste settimane in particolar modo ma è venuto anche nelle settimane precedenti abbastanza regolarmente, c'è sempre una condivisione su quello che succede sia col direttore Rinaudo che con Riccardo che sento anche a volte a livello telefonico e di consulenza è una routine classica normale dove ci si confronta, dove ci si scambiano delle idee, delle opinioni su come sta la squadra e su come la voglio orientare e come voglio andare a lavorare per le settimane poi successive, le partite successive. Tullio Filippo nel Repubblica Palermo, volevo chiederti in questo momento complicato questa settimana vi siete guardati negli occhi, avete parlato, cosa vi siete detti come approccio rispetto a questa partita dalla quale sia voi, immagino che l'ambiente si aspetta anche un momento catartico per uscire fuori da questa crisi, con che approccio state affrontando questa gara come se fosse un'ultima occasione o comunque una delle ultime occasioni per riprendervi oppure, non so, ecco, dimmi tu. Io la vado a definire in modo diverso, io penso che un'opportunità si debba accogliere, ci sono sempre opportunità fondamentalmente, dunque la capacità è quella di prepararsi al meglio, l'ho visto una squadra molto concentrata, molto applicata in quello che poi vogliamo andare a fare, è stata una settimana importante perché dentro la settimana scaglionati abbiamo recuperato giocatori e questo ha dato anche un senso tattico, tecnico, atletico, di intensità e di aumenti diverso rispetto a quello che abbiamo dovuto sviluppare le settimane precedenti e tutto questo per me è qualcosa in più che mettiamo dentro, quella volontà di fare una grande partita, abbiamo sempre rispettato tutti gli avversari, come rispettiamo il Parma, ma sappiamo anche di avere delle qualità, delle caratteristiche e penso che la partita successiva sia sempre una grande opportunità e metteremo in campo il meglio per provare a fare risultato, purtroppo nell'ultima settimana questo risultato è venuto poche volte e la grande volontà è quella di far sì che anche in una partita complicata e difficile con un avversario molto forte possa succedere e ci siamo preparati da questo punto di vista per fare una bella partita e cercare di portare a casa un risultato positivo. E poi voglio chiederti un'altra cosa, riguardo al centrocampo ci dobbiamo aspettare un rilancio di Stulas dal primo minuto per cercare un po' È una valutazione che sto facendo, devo lavorare bene sulle caratteristiche che abbiamo, su come voglio comporre il tridente d'attacco, su come voglio lavorare a centrocampo, rispetto al fatto che quando il campo si allunga loro in transizione sono molto forti, molto capaci, è una valutazione, Leo sia quando è partito dall'inizio che quando è subentrato, compreso l'ultima partita, aveva fatto un bellissimo gol di test, è sempre stato importante, come vi ho detto le scelte iniziali sono strategiche sulla tipologia di partita che voglio fare, ma avendo recuperato i giocatori sicuramente ho più opzioni anche dentro la gara per poter sviluppare qualcosa di diverso. Salve mister, Alessandro Arena giornale di Sicilia sono qui, io volevo un attimino riagganciarmi alla questione del modulo, ci ha molto colpito quello che le ha utilizzato contro il Catanzaro, le volevo chiedere intanto se era una scelta preventivata o di fatto, ha risposto in parte prima, si è resa necessaria per l'assenza dell'ultimo minuto di Coulibaly e poi dall'altro lato le volevo chiedere se le è piaciuto e se c'è una possibilità, a maggior ragione visto come diceva prima le condizioni di Insigne, di poterlo rivedere anche domani. Grazie. È stata una valutazione strategica fatta su quello che avevamo a disposizione, compreso Coulibaly che abbiamo perso solo la mattina della partita perché volevamo essere molto aggressivi sui cinque costruttori del Catanzaro e volevamo avere una copertura dell'ampiezza fatta con i giocatori che avevo a disposizione e che dal punto di vista condizionale fossero più pronti rispetto a quello che avevo a disposizione e dunque l'abbiamo preparata da inizio settimana come l'avete vista, certo è mancato un centrocampista in più che poteva partire dall'inizio subentrare come Coulibaly, però voglio dire è stata preparata e pensata in quel modo per i giocatori che in quel momento avevo a disposizione e soprattutto chi per me poteva iniziando la partita eventualmente garantirmi 90 minuti. Io penso che adesso avendo recuperato i giocatori il concetto del 4-3-3 che spesso si sviluppa in 2-3-1 a secondo del possesso e non possesso sia la nostra identità e su quello che continueremo lavorare. Ciao Eugenio, Valerio Tripi, Agenzia Anza, sono qua, ho tagliato i capelli. Tra i giocatori che sono stati un po' più criticati rispetto agli altri c'è Matteo, ti volevo chiedere se questo tema è entrato nelle preparazioni delle ultime partite, tra di voi, un confronto, se c'è stato bisogno di dire qualcosa al ragazzo? Io penso che su Ades probabilmente il fatto che è un giocatore che io ho già avuto il milione della critica forse ancora più centrato su di lui in questo momento, è un giocatore che per caratteristiche nel ruolo è stato l'unico che abbiamo avuto a disposizione con l'infortunio di Butto all'inizio del campionato perché è grave se è un centrale che si può adattare. Alessio è rientrato da poco, ha giocato un taglio di partita a Terni, ha giocato in un ruolo leggermente diverso che aveva già sviluppato l'anno scorso e dunque un concetto di una linea a quattro e quello che in questo momento mi può dare è Alessio, per me è un giocatore importante perché fondamentalmente non abbiamo avuto Buttaro e devo adattare un centrale a fare il laterale basso, ma invece per me lui ha le caratteristiche giuste per poterlo sviluppare. Buongiorno Eugenio, Marco Capone, Palermo Today. Mi riallaccio alla componente emotiva citata da Tullio Filippone perché dopo la partita contro il Catanzaro Marconi ci ha detto che questa sfida di Parma può anche essere una svolta qualora andasse in maniera positiva per noi e lui ha detto dobbiamo isolarci da tutto e da tutti. Ti chiedo se in questa settimana ci siete riusciti e poi una domanda su Soleri, un recupero importante anche rapido, come l'hai visto in settimana? Grazie. Ivan ha espresso quello che è stata sempre la volontà di questo gruppo, che è sempre stato reattivo sia quando le cose andavano bene che quando purtroppo nell'ultimo periodo non stanno andando bene, abbiamo sempre la voglia di poter attraverso il lavoro migliorarci e far sì che la partita successiva possa essere una partita importante. Io difficilmente parlo di partite della svolta ma ci sono dentro il campionato partite significative, sicuramente questa di Parma lo è e dobbiamo fare una prestazione di un certo tipo, lo vogliamo fare perché la squadra si è dedicata molto intensamente sia dal punto di vista emotivo, mentale, dal punto di vista tecnico, tato, nell'applicazione e vogliamo farlo vedere in campo. Questo vuol dire quanto è solido questo gruppo e quanto insieme voglio uscire da questo momento di difficoltà. Rispetto a Sole è stato un giocatore che è rientrato prima rispetto agli altri che più alla settimana andava avanti e rientravano, ha fatto due tagli di allenamento ridotti, però l'ho visto bene, l'ho visto mobile, l'ho visto reattivo, di consenso è un giocatore sicuramente recuperato. Buongiorno mister Cettina Pellittere, Azzurranius, a proposito del clima un po' incandescente, lei è stato uno dei capitani più amati del Palermo, ma anche come tecnico nel 2017 tutto il popolo rosa-nero lo difese contro Zamparini, insomma quelle bordate. Alla luce di questa contestazione che è evidente, lei dove trova la forza mentale per andare avanti e soprattutto le volevo chiedere se lei vorrebbe cambiare qualcosa nella comunicazione post-gara e cosa vuole dire ai tifosi, soprattutto ai 1700, che nonostante tutto saranno al Tardini. Grazie. Guarda, io penso che una persona viva di sogni e di ambizioni, quando tu li hai nel tuo cuore nessuno te li può rubare. Io mi rendo conto della situazione, rappresento e svolgo un ruolo che è altamente criticato sempre, mi rendo conto che in questo momento lo è molto di più, ma penso sempre dentro che attraverso il lavoro di poter far sì che questo possa cambiare e dunque io sento l'energia per quello che è l'obiettivo che mi ha dato la società e le caratteristiche dei miei giocatori che attraverso il lavoro questa cosa possa cambiare. A volte tenere duro è un aspetto fondamentale e di conseguenza la lucidità, la volontà, la voglia di andare avanti c'è perché la sento, la sento come energia e non potrei mai perdurarmi il fatto di non averci provato sino in fondo e siccome sento questa energia e sento anche che oggi chi giustamente mi contesta perché avrà le ragioni per farlo penso anche che se la squadra possa svoltare potrà dire ha fatto un lavoro di un certo tipo dunque i miei sogni non li può rubare nessuno, sento l'energia per portarle avanti, sento questa squadra dentro di me e di conseguenza ho avuto la fortuna di essere amato, in questo momento sono più contestato, fa parte di questo, però il rispetto c'è sempre stato, io svolgo la mia professione al meglio di quello che posso fare, sento l'energia per farlo, sento l'appoggio dei miei giocatori che è l'aspetto fondamentale attraverso il lavoro nel tempo per l'obiettivo che mi ha dato la società, penso di avere le qualità per portare questa squadra dove tutti vogliamo portarla. Rispetto alla comunicazione io rispondo alle domande che mi fate, se mi fate una domanda tattica io cerco di darvi la mia visione tattica, giusta o sbagliata che sia, ognuno poi fa la propria riflessione, su questo faccio fatica poi a dirti se è giusta o se è sbagliata, cerco di essere coerente, cerco di dirvi quelle che sono le mie idee e lo farò sempre. Quando uno esprime un proprio pensiero poi si espone a una critica che a volte è strumentale, a volte può essere corretta ma fa parte di questo mondo e lo devo accettare, non ho mai la pretesa di cambiare le persone, però il mio punto di vista non ve lo può togliere nessuno e lo dirò sempre, è quello che penso. Sì mister, buongiorno, Peppe Musso forza a Palermo.it, settimana scorsa abbiamo visto il recupero di Di Francesco, immagino che durante questa settimana si è progredito ancora di più, quanto è importante e se può partire dal primo minuto domani? Sì Federico partirà dal primo minuto, giocatore importante, l'abbiamo recuperato per un taglio di partita significativo e domani partirà dall'inizio. Eugenio, questa partita fino a due mesi fa poteva essere una sorta di spareggio per il primo posto, per come era il vostro andamento, quanta rabbia c'è in voi, quanto fastidio c'è in voi doverla affrontare da ottavi e quanto rammarico c'è? C'è la volontà di scalare la classifica, prima lavoravamo per mantenerla, adesso dobbiamo alimentarla per scalarla, per tornare in queste posizioni che avevamo all'inizio dell'anno, comunque a ridosso delle prime due che in questo momento stanno creando un piccolo solco e dunque è un'opportunità, ormai quello che è stato è stato, dobbiamo essere attivi rispetto a quello che è successo, con la volontà di capire bene e delineare il percorso che dobbiamo fare e dobbiamo farlo pensando una gara per volta, sicuramente oggi la classifica dice questo e dobbiamo far sì che questo ottavo posto diventi qualcosa di meglio attraverso una grande prestazione e un risultato importante che vogliamo fare a Parma. Grazie.